Prenda la parola. Presidente, io voglio segnalare all'aula, perché lei non poteva accorgersene, quindi lo segnalo a lei, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico Ricciardi ha fatto il segno come se fossimo in un'osteria da barra, ti aspetto fuori, vieni fuori, ti aspetto dopo. Credo che sia indecoroso verso questo. Lo vi rifericheremo. Deve essere verificato e deve essere gravemente sanzionato. Io non ne ho avuto contezza, spero che nel caso in cui fosse accaduto... Nel caso in cui fosse accaduto, spero che il deputato Don Ricciardi voglia scusarsi, in caso contrario comunque andremo a verificare con i filmati. Passiamo. Non mi pare che intenda scusarsi, quindi andremo alla verifica così come richiesta dal deputato Donzelli.